Chi vede Venezia come un grande parco a tema e dall'altra parte c'è chi invece vede Venezia come una città. L'indicazione turistica è il cognome più diffuso qui a Venezia. Venezia in 13 anni ha perso circa 10.000 abitanti. Io mi sono trovato a occupare uno stabile sicuramente per necessità. Perché qua è fine, che se è? Questa voda. Tu ti giri, guardi le finestre chiuse e tu sai che quelle finestre chiuse sono appartamenti sfitti. Io combatto per restare a Venezia perché Venezia è la mia città e voglio stare qui e non voglio andare via. Vale la pena lottare perché Venezia o si lotta o la perdiamo. Io ho bisogno di Venezia, ma anche Venezia ha bisogno di me.